Allora, mi accompagno con due foto in maniera che così almeno vedete qualcosa di un pochino più simpatico che il mio faccione. Eccoci qua. Allora, il concetto di cui vorrei presentare stasera, proprio due pensieri, è attorno quindi alla preparazione fisica, preparazione fisica, va bene, particolare nella pallacanestro, di questo stiamo parlando, ma come vedrete poi dal discorso è un po' la preparazione fisica a tutto tondo. Quindi alcuni elementi, più che altro un confronto con quello che si faceva un po'. Non vorrei essere un po' troppo da marcord, però così, vedere un attimo come è variata, se si può dire questo. La preparazione atletica, la preparazione fisica, vedete che già qui ci sono dei termini, in questi anni. Io mi presento velocemente, faccio l'insegnante di scienze motorie in un liceo, ho insegnato per tanti anni, tranne per la parentesi professionistica con la pallacanestro, dove chiaramente, dovendo spostarmi e seguire le squadre, ho dovuto lasciare la scuola. Seguo da sempre, ho giocato e seguo da sempre il football americano e ho avuto il piacere anche di seguire, cosa che sto facendo tuttora, anche dei tennisti. Interessante il discorso su attività sportive di altro tipo. Qui va bene, c'è una foto dei primissimi tempi, quindi con l'Armani. Sia proprio per il confronto interessante tra atleta di sport individuale e atleta del calcio. Qui ero con la terza squadra di Milano, adesso ce ne sono le prime due, non mi ricordo bene quali sono, non so, tra americani, cinesi, chi è che ha più la squadra di Milano. E poi c'era questa gloriosa Calvairate che era ancora tutta meneghina. Vabbè, detto così, insomma, per quello che può valere. Da giocatore ho cominciato subito quindi a fare la parte di preparazione atletica e anche dalle squadre dove giocavo. Qui ci sono un tot di campionati che sono stati vinti. Ad onore del vero, quello che mi resta un po' sul gargarozzo, che devo dire mi dà particolarmente fastidio, sono invece questi sei titoli europei, che rappresentano sei finali di Coppe dei Campioni, di Eurobowl o di finale del campionato europeo per nazioni, sei finali perse. Penso di essere uno tra i giocatori, tra gli allenatori che da questo punto di vista non so chi è riuscito a fare sei su sei, ma l'Annoni ce l'è fatto. In frattempo, che intanto mi dedicavo al gioco della palla con le punte, facevo anche il preparatore nella palla canestro. Tutto questo discorso era per giungere a fare una chiacchierata su questo. Ho seguito quindi un po' di serie. Sono partito dalla C2, ho fatto quindi un po' di passaggi. Sicuramente il periodo più importante, se così si può dire, quello con l'Olimpia e quindi questi quattro anni in Serie A1 e Neurolega, e poi altre esperienze, sì che molto molto interessanti, alcune non fortunate, anche questo qua però già siamo in un periodo di coronavirus, per cui tralasciamo, ma l'esperienza Roseto, Nobara, Forlì, voi sapete bene che sono state tutte situazioni, come ad esempio l'ultima di Forlì, dove la squadra era stata poi dopo ritirata a metà dell'anno, eccetera, eccetera, anche per un malore che c'è per quello che riguarda il nostro movimento. Va bene, quindi come vedete, io sul basket proprio praticato fino a tre anni fa, e quindi il discorso è, ok, cosa è cambiato tra quello che c'era prima del mio, così, darmi alla preparazione sul squadro del basket, e quello che c'è praticamente fino ad ora, quindi cosa è successo, cosa è cambiato, che tendenze ci sono. Direi che si può riassumere un po' la situazione in queste due parole, evidenza scientifica. facendo anche, tenendo anche dei corsi in università cattolica e statale, ho a che fare con quelle che saranno le nuove leve, quindi i nuovi laureati in scienze motorie, e quello che è stato proprio anche il cambiamento a livello dell'università stessa, quindi da ISEF a scienze motorie, sicuramente scienze motorie dà proprio l'idea dell'importanza dell'approccio scientifico all'attività motoria. È una questione proprio di cambiamento, di cambiamento abbastanza radicale. Ora, non dico si fa a gara, però sicuramente la ricerca e la pubblicazione di ricerche fatte ha sicuramente una grossissima importanza. Tralasciamo il fatto dell'esagerazione di determinate cose per altri motivi, ma sicuramente il fatto che quello che in questo caso vedo in palestra posso cercare di recuperarne dei numeri e verificare se questi numeri che significato hanno, questo è quello che sostanzialmente ha creato il cambiamento nel tipo di preparazione o di approccio alla preparazione che si può vedere in questi anni. Perché la foto di The Coach? va bene, sappiamo tutti la presenza, la potenza di questa persona e vi racconto questo nella sua seconda apparizione a Milano si è rapportato in questa maniera. lui era famoso per aver fatto e ci teneva a seguire proprio personalmente la parte di preparazione con la squadra che vedete qua dietro ok? Quindi con i suoi giocatori con i quali ha vinto quello che c'era da vincere in Italia e in Europa. Ci teneva proprio cioè la parte la considerazione sulla preparazione atletica per lui era veramente basilare. Quindi oltre all'aspetto tecnico sul campo c'era proprio questo grosso significato che dava e i suoi allenamenti erano erano particolarmente famosi mi ricordo io di ragazzino dicevano ah però se vai a vedere il gli allenamenti fanno un sacco di scivolamenti fanno poi tutto un lavoro sul campo dove prima fanno un allungo poi rallentano poi fanno e quant'altro e devo dire che il coach ha riproposto anche questo allenamento nella sua seconda apparizione a Milano perché ho messo di fianco queste cose beh in quel periodo non è che avessimo chissà quali strutture chissà quali quali grande cose anche anche a Milano qualche strumento di misurazione l'avevamo per cui annusando un po' il dubbio su un tipo di preparazione che forse non era più congeniale con la pallacanestro di qualche anno dopo quindi nel suo secondo evento avevo registrato dei dati Dan Peterson è venuto lui a dirmi Massimo fammi vedere che dati abbiamo fammi vedere voglio sapere ok e quindi ho fatto vedere che alcuni tipi di lavoro che stavamo facendo che erano stati preparati anche da con l'aiuto delle persone del suo staff quindi del medico sociale dei preparatori che aiutavano il coach al suo tempo che davano un tipo di richiedevano determinate prestazioni che non erano le prestazioni che poi dopo erano quelle della partitella simulata piuttosto che della partita vera e propria dati recuperati appunto dall'evidenza scientifica da pubblicazioni eccetera 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 quindi il ok a questo punto tanto per finire la storia coach ha detto va bene allora cambiamo tutto rifacciamo alcune cose rimpostiamo riadattiamoci ok quindi vedete come l'evidenza scientifica in effetti cioè il dato il dato è quello che va e determina anche la scelta di poi effettivamente che cosa fare questa questa diapoi l'avevo messa in un'altra presentazione ma la riporto qua vabbè avete visto che io intanto sono nato come allenatore prima che come preparatore per cui a me piace combinare insieme questo vedremo sarà un altro aspetto combinare insieme la figura del preparatore fra gli allenatori ok e se io sono allenatore io alleno per vincere ok perché tu fai la parte atletica così io faccio la parte atletica perché voglio vincere questo qui è il primo obiettivo ok allora per poter vincere io devo riuscire a predisporre un un allenamento quindi un piano pensato strutturato organizzato ok che tenga presente dal punto da dove parto gli obiettivi le gare dove sono messo e faccio quindi tutto quel percorso ok tutti gli studenti oramai penso dal primo anno ma poi lo vanno ad approfondire negli anni successivi sanno che si chiama programmazione e periodizzazione dall'allenamento per cui mi metto lì organizzo tutto perché perché io voglio portare i miei giocatori ad essere performanti il meglio possibile per vincere del fatto che non si infortunino la dico brutta ma dopo spiego bene non me ne frega proprio niente nel senso che non è il mio obiettivo me ne frega tanto per cosa perché se si infortuniano ok interrompono questo programma di allenamento ok e quindi la performance il risultato finale è minore se poi sono in uno sport ecco la differenza anche tra sport di squadra e sport di individuale se poi devono giocare any given Sunday è chiaro che questo diventa un grosso problema se ho bisogno di quei due punti per la partita che perdo due punti valgono la prima valgono l'ultima ok per cui ecco che il discorso diventa quindi ancora più più presente ci siamo tralascio discorsi societari di immagine di tutte le altre cose che però in una società di alto livello in una società dove deve fare anche spettacolo sono sicuramente importanti però l'obiettivo è sicuramente vincere il non infortunarsi è un aspetto importante ok se volete secondario ma sicuramente importante quindi il concetto di prevenzione di infortuni è diventato è diventato è sicuramente un concetto importante nella preparazione fisica bene da dove vengono gli infortuni come prevenire gli infortuni a chi diamo l'incarico di prevenire gli infortuni allora tra tutti i vari lavori scientifici che che sono oramai molto abbondanti quello dell'andare a cercare di prevenire gli infortuni è sicuramente un tema particolarmente dibattuto e anche da un punto di vista così diciamo dal ragionamento normale ok io posso dire del buonsenso io posso dire ok ho una persona la metto sotto uno stress ok per migliorare va bene più alzo lo stress pian piano più lo miglioro se lo stress è troppo basso non ottengo risultato se è troppo alto rischio di fargli male ok quindi cosa sto facendo il carico di lavoro diventa l'obiettivo delle mie misurazioni devo sapere che carico io vado a dare a questi giocatori perché perché in base al carico di lavoro io posso capire se o meno gestiscono questo livello fino a quando lo gestiscono fino a che punto posso quindi tirare la catena come si può solito quali metodi io ho per la misurazione del carico di lavoro e che cosa si intende per carico di lavoro allora carico di lavoro innanzitutto può essere un carico di tipo interno ed esterno ok carico di tipo esterno è va bene vado in salapesi tiro su del ferro ok quanto ho tirato su ok e già quello può essermi può darmi un'idea se non altro del lavoro che ho fatto almeno questo termine il lavoro quel peso per quanto l'ho spostato su e giù ok l'altro concetto che anche qui però non è così facilmente calcolabile è sì ma come l'ho spostato che accelerazione decelerazione quel peso ha avuto e se invece di essere il peso sono io che mi sposto sul campo che accelerazione decelerazione ho avuto quali contrasti ho subito mentre sto facendo questo tipo di lavoro accelerazioni orizzontali accelerazioni verticali per cui ok c'è un metodo per calcolare questo tipo questo tipo di lavoro e l'altra questione era va bene corro su e giù ok allora il buon dio ci ha fatto un meccanismo che maggiore è l'energia che ho bisogno di spendere per effettuare un determinato sforzo e maggiore questo meccanismo comincia a darsi da fare quindi il nostro battito cardiaco può essere un un indicatore già abbastanza importante su alcune cose l'altra questione è vabbè però come mi sento cioè questo sforzo per quanto posso andare avanti per quanto posso farlo ok è una sensazione così soggettiva anche questo può essere un termine il signor Borg ha quindi pensato di strutturare tutto una una sua scala partendo proprio dai battiti cardiaci ma per arrivare poi dopo dire ok facciamo in questa maniera facciamo che il calcolo va da 0 a 10 e quindi a secondo del tipo di sforzo che è da 0 proprio più banale 0 non stai facendo nulla a 10 che proprio oramai sei andato completamente ok questo è un metodo che a differenza di altri metodi e qua torna scusate se faccio soltanto questo passo indietro ma torna l'uso di device di strumentazioni che la tecnologia altra cosa che sicuramente ha cambiato il mondo della preparazione che la tecnologia mette a disposizione per cui se prima per puntare i battiti bisognava mettersi le dita sul collo adesso invece ci sono sistemi che permettono tranquillamente di analizzare i tuoi battiti e farli avere direttamente sul tavolo del tuo allenatore nello stesso momento per verificare effettivamente quanto vai cosa fai e quant'altro la tecnologia sicuramente è stato un altro punto che ha cambiato molto l'approccio quindi all'analisi del lavoro da quello che mi risulta Milano con l'Armani con l'Olimpia soltanto negli ultimi due anni e dagli ultimi due anni usa questo sistema di rivelazione di dati che è proprio fino a poco tempo fa era fantascienza cioè il fatto che ti dice esattamente a che velocità vai cambi di direzione quant'altro io non l'ho mai usato ok per cui al limite su questo possiamo chiedere all'amico Giustino se ci dà qualche altra delucidazione ma questo è un sistema per avere una così tanta numero di dati che effettivamente può aiutare parecchio perché può aiutare parecchio perché ci può dire immediatamente alcuni parametri che possono rivelarsi importanti per il preparatore e per l'allenatore cioè ti dice guarda che in una situazione reale di gara queste sono effettivamente le richieste questo è il modello prestativo del giocatore di basket e quindi visto che tornando al discorso di prima sulla scientificità ormai dei lavori ok in base ai dati vedete come si ritorna in base ai dati noi possiamo recuperare un tot di dati e confrontarli vedere quindi se determinati carichi determinati i valori sono congrui fare tutte le misurazioni del caso che ti dice se l'atleta c'è rispetto alla sua storia rispetto agli allenamenti precedenti rispetto agli allenamenti che si possano ipotizzare e quant'altro è certo una tecnologia che costa una tecnologia che non è certo per tutti ripeto io ho girato un po' e ultimamente sapevo di questo me l'avevano appunto raccontato ho visto altre strutture e altre cose che sempre per il recupero di dati hanno ad esempio nel Milan Lab sì però stiamo parlando di quelle realtà alla quale è giusto far riferimento però non corrispondono con la realtà di tutti i giorni io non so quanti di voi hanno la fortuna di lavorare o al Milan o all'Armani ok allora di tutto ciò a noi sostanzialmente che ci frega ci frega quello che è il discorso di base cioè comunque la predisposizione a cercare determinati dati che possono sostenere la nostra tesi di lavoro e o aggiustarli per strada quindi dobbiamo classificare quali sono i carichi di lavoro e quindi avremo l'allenamento della squadra andremo a calcolare quelli che sono gli allenamenti di indies gli allenamenti individuali di ciascun giocatore che fa per i più svariati motivi dal recupero ha del lavoro extra ha delle sessioni in più che vuol fare rispetto a quelli della squadra un lavoro differenziato in base a determinate sue problematiche quale che sono il lavoro condizionale anche questo in base anche qui a il dover fare delle sessioni in più perché non ha giocato la partita perché ci sono state perché è stato strutturato un allenamento proprio solo di quel tipo al lavoro al lavoro che fa in palestra ok a tempi di recupero ai lavori di recupero e sicuramente anche ha la partita fatta perché la partita fatta poi comunque come si vede come si vede nel senso come si vede nei fatti e per chi può misurare come si vede poi nei valori rappresenta chiaramente il punto di riferimento per quello che è la performance non c'è nulla che allena come la partita ma questo considera anche tutti gli altri aspetti estremamente importanti che fanno parte poi dopo della prestazione e lo vedremo dopo per cui ecco che c'è come vedete tutta una raccolta di dati tutta una raccolta di dati su quello che è lo sforzo fatto cioè vado a misurare lo sforzo in base alla sensazione che il singolo atleta ha quindi una volta che io di ciascun atleta riesco a recuperare questi valori posso fare e recuperare quindi avere tutta un'idea del valore del carico ok in queste unità arbitrarie che abbiamo così definito per date da cosa date da sono affaticato fino a 7 ho lavorato per 60 minuti se per 7 42 420 unità arbitrarie ok questo penso che tutti sappiate più o meno come funziona la scala di valutazione di borgo quindi recupero giornalmente i vari valori o il valore di tutta settimana o gli indici durante la settimana di come va il carico di lavoro può essere quindi un ottimo aiuto all'allenatore anche per dirgli guarda che qui così forse possiamo caricare un po' di più qui così ci conviene tirare un po' indietro noi gli diamo dei numeri l'allenatore che sa il suo mestiere va da sé che il venerdì se si gioca il sabato non si mette lì a fare delle cose circensi in modo da avere la squadra cotta giorno dopo però torno al discorso di prima sull'evidenza scientifica i numeri i numeri possono dare un sostegno e in qualche volta possono dare una indicazione di aggiustamenti di rotta dal valore individuale chiaramente io posso avere il valore di tutta la squadra e chiaramente ce l'ho per tutto per tutto il tempo per andare a valutare cosa adesso c'è questo dibattito ok sicuramente ha il suo valore che cosa il concetto che se io sono abituato a sostenere un certo tipo di lavoro e per svariati motivi nella settimana successiva ad alcune tre o quattro cinque che mi determinano quello che è il valore medio nel quale io quindi gestisco il mio impegno normale ho una variazione di lavoro andando quindi ad aumentare il carico di lavoro questo può essere un campanello di rischio perché metto il mio atleta in uno stato di stress così evidente che può indurlo a un infortunio e visto che l'infortunio dobbiamo cercare di fare possibile per quello che abbiamo detto prima e quindi cercare di stare più lontano possibile ecco che l'analisi del valore cronico e valore acuto è quello che attualmente viene visto proprio come un indice al quale stare particolarmente attenti di non superare di non andare oltre certe misure ok che cosa posso fare però posso nell'arco e gestendo bene la preparazione cercare di tenere questo valore medio invece sufficientemente alto così da garantire insomma un certo prestazione del mio atleta senza dover per forza o stando ben attenti a determinati carichi e qualora questi carichi dovessero avvenire saperlo e cercare poi quindi anche di recuperare quindi l'analisi dei carichi di lavoro sta diventando un vero e grosso impegno proprio per il preparatore questo si dice è a costo zero mentre per quello che riguarda l'analisi determinati da altri sofisticatissimi apparecchi tecnologici costano e costano abbastanza questo è gratis visto che siamo a Milano eccetera eccetera io direi anche l'eminga vera perché il raccogliere i dati e il catalogare i dati e l'analizzare i dati e condividerli non è a costo zero prevede un dispendio di tempo di energie per nulla indifferente ok non è l'unico dato che noi che noi andiamo a recuperare perché perché quindi abbiamo sì recupero della 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 sensazione di fatica peraltro soggettivo peraltro che devo chiedere all'atleta peraltro che l'atleta deve essere preparato a a gestire questo rapporto col preparatore che gli valia dice ok come è andata oggi così benissimo così quanto che valore dai il valore è giusto o il valore oggi l'ha sparato a caso come possiamo aiutare l'atleta a capire a familiarizzare con questo con questo con questo dato che abbiamo visto per noi essere abbastanza importante c'è da dire che raccogliendolo comunque quotidianamente il numero grande di dati che vengono raccolti fanno sì anche di ridurre l'errore però voi capite che è comunque un impegno sufficientemente importante ok dal punto di vista dei dati sull'attività cardiaca questo dipende dalle tecnologie ci sono tecnologie oramai che permettono con anche qui una spesa moderata ma una spesa di riuscire a calcolare per l'analisi del sangue a suo tempo da noi la facevano ogni due mesi ci sono adesso dispositivi che raccolgono alcune informazioni precise anche quotidianamente ecco anche questa qua è come vedete un un segno dei tempi mi viene detto che mi viene da dire cioè una richiede tecnologie adeguate quali altri valori e dati io posso andare a recuperare per avere un'idea del mio atleta in che condizione è e quindi della mia squadra in che condizione è posso fare valori condizionali posso andare a misurare oltre a quelli che appunto vengono fuori da quelli descritti quanto salta quanto rimbalza la grip se verificare si vede con testa abbastanza semplice da effettuare vado a vedere quant'è la forza mi dà dalla presa della mano mi dà un indice abbastanza importante se sono o no in fase in fase diciamo così catabolica o anabolica se sto perdendo forza oppure se invece riesco a gestire piuttosto che a misurare la forza di altri gruppi muscolari e anche qua dipendono dalle macchinari attrezzature che faccio oltre poi ad andare a vedere di raccogliere quelli che sono i dati anche tecnici a suo tempo anche sotto consiglio del suggerimento di 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 noi a Milano avevamo provato anche a seguire le indicazioni del calcolo di lavoro del lavoro dell'allenamento come lo preparavano il preparatore della della Spagna quindi contando se si faceva soltanto un un gioco sulla metà campo sul campo intero su un campo e mezzo o quant'altro raccolta fra l'altro di dati in quel periodo che si andava a misurare quindi durante l'allenamento questi che che range di battiti cardiaci arrivavano quindi a verificare i tempi di pausa tempi di lavoro c'è stato tutto un lavoro interessante per appunto cercare di dare un numero al 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 lavoro svolto quindi come vedete non è un una cosa è una cosa che proprio come vi dicevo fa parte della storia dell'evoluzione a Milano in quel periodo quindi stiamo parlando di sette anni fa non stiamo parlando di di epoche fa stavamo sperimentando anche un'analisi tramite video proprio per verificare le accelerazioni e quant'altro di un un dottore di 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 Urbino se non se non mi sbaglio ok però capite bene che c'era è strettamente legato una componente tecnologica di altissima qualità una cosa del genere per cui avere pochi dati e ne sbagli uno vuol dire che i tuoi valori rischiano di avere degli errori molto grossi adesso ci sono delle capacità tecnologiche di altro tipo e ripeto l'evoluzione tecnologica in questo periodo su queste attrezzature mi viene da dire pazzesca e noi recuperiamo tutti questi dati recuperiamo questi dati che poi dopo li dobbiamo gestire ma non è l'unica cosa che 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 mi interessa a me come preparatore perché vengo a perdere quello che è la sfera biopsico sociale cioè cioè che i nostri giocatori sono comunque delle persone e i nostri giocatori si comportano come ragazzotti che dagli anni 20 agli anni 30 30 e qualcosa della loro vita vanno in giro e fanno quello che fanno tutti gli altri anche di più ok per cui c'è questa parte qua che è estremamente importante questa parte qua è estremamente importante e questa parte qua è difficile da misurare e gli andiamo a mettere cardiofrequenzimetro gli andiamo a mettere il il catapult tra tra le scapole intanto che e ma questa cosa qua è una cosa che invece ha la sua grossissima importanza faccio un attimo di 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 cabaret alla sua importanza finché finché perdi perché nel momento che perdi tutti ti vengono a dire ah ma ieri sera era fuori in discoteca giocatori che uscivano a discoteca venivano facevano l'allenamento le partite vincevano invece va tutto bene anzi era un un qualcosa in più ma questo lo si sa lo si dice solo a sottovoce e in qualche momento quello che sto dicendo però non è soltanto così un un pur parler come si suol dire perché perché questo mi ha fatto piacere che nell'ultima riunione dell'ultimo clinique anche questo qui via via web come stiamo facendo noi adesso via quello che coach Ramsey sottolineava e c'è questo aspetto che invece anche questo dà dei dati dà dei dati particolarmente importanti io su queste cose qualche parola l'avevo spesa a suo tempo con i miei atleti più facilmente quelli quelli di sport individuali ma anche con quelli di sport di squadra queste cose qua ogni tanto una parolina un'informazione su questo se non proprio in maniera sistematica c'era perché noi sappiamo che le prime cose che vengono disturbate quando raggiungiamo l'overreach ok prima speriamo dell'overtraining è appunto la qualità e la durata del sonno ma il nostro atleta dorme sufficientemente e sufficientemente bene o no noi sappiamo quanto è decisivo il recupero e la fase anabolica durante la parte del sonno a questo mi viene da pensare che poi al lato pratico però tu giochi alla sera finisci la partita aspetti fanno tutti la doccia sali sul pullman vai al tuo albergo mangi in qualche caso liberi tutti facciamo che è andata tutto bene così ok liberi tutti questi qui hanno adrenalina mille per cui non vanno certo e non si addormentano certo subito tanto abbiamo già fatto la mezzanotte passata da un pezzo alle 4 di mattina 5 di mattina se ti va bene suona la sveglia colazione o quello che c'è sali sul pullman vai all'aeroporto prendi l'aereo e questo qua lo fai due volte alla settimana ecco già questo qua è un termine importante è un carico di lavoro è un carico di lavoro particolarmente importante poi vai anche pure sull'aereo quindi problemi di disidratazione di pressione giochi in Europa cambi anche il fuso orario eccetera eccetera anche questi sono dati sono dati difficili da calcolare però sicuramente è importante datemi presente l'umore questo è un'altra cosa che ti permette di cambiare questo qui ti cambia tutto ok l'umore l'attenzione scusate io faccio sempre a botte con i nomi ma Margheria il nostro professore della statale proprio mente eccelsa della fisiologia lui diceva che ok se io sono di umore buono se ho una buona motivazione vinco io qualsiasi cosa diceva mettetemi la bionda americana Marilyn Monroe in fondo alla pista dei cento metri e i cento metri li vinco io per dire come appunto questo è un altro dato fondamentale tutti sanno della prima partita del nuovo allenatore che viene a sostituirne un altro ok che quella partita 90 su 100 la vince io mi ricordo il buon Dan Peterson quando è venuto da noi ha avuto giusto il tempo di vedere appunto il Lido così come era ancora quando c'era lui di parlare con i due assistenti Mario Fioretti e Giorgio Valli e ha detto ok ragazzi sapete voi andate il giorno della partita è stato il primo giorno dove effettivamente era stato lì con la squadra l'unica roba che ha detto è ragazzi giocate io non ho mai visto la 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 i ragazzi dell'Olimpia con i denti fuori come quella partita ok poi sappiamo che dura per quello che è ma l'umore è di certo una questione estremamente positiva a livello di stress durenza muscolare queste quattro cose coach Ramsey lo chiede in maniera precisa ok proprio come raccolta di dati di dati significativi va bene quindi abbiamo visto che qua il lavoro del povero preparatore diventa una roba una roba particolarmente importante importante sia per il risultato che può avere ma anche importante in termini di in termini di 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 impegno suo proprio va bene allora recupero dati recupero dati recupero dati e quando vado in palestra in palestra cosa facciamo ci va più nessuno chi ci fa ok qui c'è il mio buon abinco Brian Du che invece si mette lì e fa lavoro in palestra con i suoi giocatori ok sul campo e la parte e la parte poi dopo invece di peso ok ma allora sul campo è cambiato qualcosa e se è cambiato qualcosa cos'è cambiato ho messo ho messo questa foto di questa Ferrari mi sembra un F40 a vederla così non che sono esperto ma c'avevo due foto uno era l'F40 l'altro era il testa rossa pare che il testa rossa sia quella con la coda più aperta va bene detto ciò che cosa è cambiato è che noi fino a un po' di tempo fa consideravamo il giocatore l'atleta la macchina da corsa io mi ricordo quando mio fratello che invece studia studiava fisioterapia mi faceva vedere i pazienti che lui seguiva e visto che seguiva l'aspetto neuromuscolare aveva soprattutto pazienti purtroppo giovani incidentati eccetera eccetera e insomma vabbè bisogna avere anche una certa predisposizione per qualsiasi lavoro che uno sceglie io non ce l'avrei non sono così forte e disponibile per una cosa del genere e dicevo tu tu stai lavorando su delle macchine incidentate io sto lavorando su delle macchine da corsa il concetto era proprio meccanico quindi devo andare a far sì che quel motore funzioni perché ho la carrozzeria quindi la mia struttura e poi un motore e allora via che va e questo e questo però negli anni negli anni un po' è cambiato questo concetto per cui la macchina umana non è più vista soltanto come una macchina e su questo devo dire che i nostri colleghi colleghi nel senso di impegnati nel mondo della prestazione fisica i nostri colleghi osteopatici e dai e dai insomma sono anche riusciti a convincerci quindi dell'importanza di questa struttura che non è soltanto una struttura meccanica dove io quindi questo carico sono fatto soltanto a leve quindi a massa a leve a angoli ma è una struttura come loro dicono in forma di tensigrità per cui in grado di distribuire il carico di lavoro in grado di resistere di più a sollecitazioni in quanto una sollecitazione determinata su un punto si ripercuote quindi si divide viene assorbito registrato gestito anche magari in posizioni diverse dando quindi una maggior resilienza a tutta la struttura ma nello stesso tempo facendo sì che non ci sia più un rapporto diretto fra direi matematico quindi lineare tra spinta qui dolore qui problema qui dolore qui ma la situazione poteva essere quindi distribuita su punti diversi una situazione quindi di affanno che noi andiamo a percepire a livello che ne so fatemi dire del collo può essere dovuto al fatto che ho una vescica al piede mi comporta per tanto tempo l'appoggio in una posizione errata e quindi ecco che vado ad avere tutto insieme di aggiustamente del ginocchio dell'anca di conseguenza della schiena e di conseguenza del collo che magari essendo già particolarmente sofferente mi lancia i suoi segnali d'allarme e io vado a dire porca miseria c'ho male al collo questa cosa qua e dai e dai e dai è direi stata percepita da noi preparatori da noi preparatori e soprattutto direi dalle nuove generazioni che con questa idea ci sono ci sono particolarmente più vicini e direi nati ci sono formati mi ricordo con piacere che quello che è stato il nostro mentore il nostro capofila e sto parlando del professor Francesco Cuzzolini lui ci aveva chiaramente inviato proprio su questa su questa strada e mi ricordo proprio anche di un clinic che aveva fatto parlando quindi dell'aspetto e della struttura doppioelica struttura doppioelica che fa parte quindi della struttura umana in quanto non siamo soltanto la spina anche se vedrete l'importanza di questo magari poi dopo ok e quindi non ci muoviamo come una biscia ma e neanche ci muoviamo però in su e in giù come fanno i delfini e già questo qui vorrebbe dire un'evoluzione particolare ma attorno a questa spina abbiamo delle aperture chiamiamole così che sono rappresentati dalle spalle sono rappresentati dalle anche come se fossimo un foglio attaccato a questo abbiamo le nostre le nostre braccia ok e abbiamo i nostri arti inferiori che hanno una lunghezza importante e che riescono quindi ad esprimere dei valori di rotazione delle copie particolarmente elevate e quindi questa struttura che noi dobbiamo andare a gestire in più evidenze scientifiche ci vanno a dire che l'attivazione della parte centrale è parte fondamentale affinché io abbia l'efficacia dell'azione degli arti degli arti degli arti superiori inferiori che siano preattivazione della parte centrale e la parte centrale però quindi non è soltanto non è soltanto lasciatelo lì il bimbo non è soltanto dato da ok fino a mio tempo si diceva la parte inferiore il treno inferiore il treno superiore è collegato dagli addominali ok perché sennò quelle povere vertebre non ci stanno e poi ci hanno detto guarda che non sono soltanto le vertebre perché poi dopo c'è anche tutto il resto ma il concetto che la spinta deve essere su una parte solida questo è diventato è diventato basilare ed è diventato ben conscio da parte di tutti di tutti i preparatori io mi ricordo quando avevo iniziato che un mio amico culturista lui diceva sai il miglior preparatore è il culturista perché lui conosce ogni singolo muscolo e sa come fa a sviluppare ogni singolo muscolo mi sembrava e a quel tempo era quello che si diceva anche una frase è sensata ma sensata non lo è perché noi non ci muoviamo per singolo muscolo ma noi ci muoviamo per movimento per idea di che cosa fare questo ha cambiato tantissimo l'approccio e quindi e quindi ha fatto sì di arrivare a questo allenamento cosiddetto funzionale dove l'aspetto importante era la funzione e non soltanto alcune parti della funzione quindi allenamento sì ma funzionale ok quello che ci interessa è quindi sicuramente riuscire ad ottenere un risultato che deve essere corretto sia da un punto di vista del risultato che voglio ottenere ma anche dalla sua attivazione quindi questi concetti sono diventati sono diventati proprio parte essenziale diciamo la base sulla quale viene poi strutturato e organizzato il lavoro che si fa in palestra e mi ricollego a quello che ho detto prima ho lasciato questa parola qua postura perché questo è un lavoro fatto di un osteopata ma ho detto l'importanza proprio di questa linea di pensiero e di come ha modificato questa linea di pensiero il nostro agire anche in palestra quindi e fra l'altro anche come rapportarci con i nostri i nostri atleti perché noi vediamo subito immediatamente l'aspetto biomeccanico al quale però noi dobbiamo ricollegarci anche anche nella valutazione ok perché un buon aspetto biomeccanico comunque ci dà l'idea è la parte più visiva se vogliamo la punta dell'asber ma ci dà l'idea di tutta una persona ok di come agisce e quindi questa persona togliete pure posture mette persone mettete atleta mettete baschettaro mettete quello che volete ci dice come viene e come si esprime ok come si esprime carico respiratorio circolatorio neurologico ok prontezza carico metabolico quindi affaticamento alla gara come viene appunto esprimersi in campo ecco che tutti i preparatori quindi si sparano la loro bella analisi posturale dei nostri degli atleti che hanno a disposizione cercando quindi di andare a correggere tutte quelle situazioni che per infortuni per abitudine per accomodamento a movimenti che a loro vaiono più produttivi quando magari produttivi o economici non lo sono tanto ok quindi facciamo tutto il nostro bel esame per andare poi dopo ad aiutare queste persone a essere più performanti e ad essere più 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 longevi peraltro ok quindi si diceva che la nostra valutazione posturale alla quale oramai non si può scappare ok come preparatori e andiamo a vedere il nostro bell'atleta e cercare almeno di individuare quei punti di gravità e dobbiamo essere intelligenti a verificare cosa c'è che va bene cosa c'è che non va e se la cosa magari non va o meglio è leggermente difforme da quello che noi o quello che i libri l'evidenza scientifica identifica come corretto verificare in situazione però di gioco ok se gioco ne vale la candela io l'ommetto mi è capitato in carriera di insistere su determinati determinati un paio di situazioni che mi erano capitate che se fosse oggi non lo farei non lo farei perché andare a modificare determinate situazioni uno non è detto che ottenga il risultato e quindi abbia una resa sforzo tempo eccetera eccetera mia dell'atleta una resa non sufficiente appunto rispetto a quanto quanto speso la seconda cosa invece magari non funzionale per lombare quindi valutazione posturale e intervento posturale se ci sono le indicazioni per farlo sulla centralità quindi del core che non è diventato più addominale non è diventato più addominale zona lombare è diventato una gestione di tutto il tronco è diventato una gestione della respirazione della diaframma del pavimento pelvico e quant'altro si basa poi dopo il resto o si centra poi dopo il resto della preparazione come peraltro vabbè queste sono poi dopo le linee guida che il preparatore mette in campo e lavora in stabilità bilaterale prima che monolaterale prima lento piuttosto che veloce leggero prima che pesante semplice prima che complesso ok quindi ecco che anche il preparatore c'è ancora c'è ancora sul campo ok vedete il buon cobi e mi piaceva inserirlo nella presentazione sicuramente quindi la nostra attenzione è basata più che il quadricipite quanto è grosso ok è basata sul controllo della colonna vertebrale quindi l'aspetto statico quindi mobilità stabilizzazione dinamica due parole che sembrano in conflitto fra loro ma che invece sono perfettamente avvicinabili non ho una stabilizzazione non ho un movimento efficace se non ho anche la sua mobilità accelerazioni decelerazioni che nel basket mi sembra sia sia l'essenza l'essenza di ogni cosa la coordinazione è incrociata e quindi chiaramente anche avvicinarsi sempre più possibile a quelli che sono gli schemi e i sport specifici nel nostro caso gli schemi e i movimenti relativi alla palacanestra eccoci qua e morale della favola la ghisa perché il discorso poi di tutto questo noi andiamo a a vedere un po' alcune foto vabbè questo qui sta facendo uno split squat o un lunge carico niente body weight va bene il mio amico Brian Do sta tirando ok si sta facendo tirare ok con l'elastico va bene un tot di ok il buon Lebron che se ti dà uno sberlone ti dimentichi come ti chiami tira su dei pesetti che la mia ragazzina di 16 anni del tennis schifa perché li ritiene troppo leggeri sembra che soltanto a livello di high school e a livello di college invece il tipo di lavoro sia particolarmente pesante beh innanzitutto mi piace vedere il buon Brian Do qui sul campo e ritorno anche a quello che ho detto prima il ruolo del preparatore atletico non non è soltanto nel ok vedo come sei messo sei dritto sei storto ti recupero ti misuro mi dai dati e quant'altro ma curo anche quello che è l'espressione del tuo movimento vi dico questo aneddoto facevo alcuni esercizi eccetera eccetera e un allenatore mi ha detto vabbè quello che stai facendo serve un cazzo erano esercizi di di reattività e e quant'altro andando poi negli Stati Uniti per per varie cose mi sono rivisto con Brian Do e così parlavamo del più del meno di che cosa stava facendo come monitorava i ragazzi una roba e l'altra mi diceva no perché sai devo andare anche a vedere perché durante la loro attività se vuoi per un infortunio se vuoi per una cattiva abitudine se vuoi per qualsiasi roba magari prendono dei partner motori che non sono quelli che voglio e quindi io lavoro su alcuni esercizi così 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 che era esattamente quello che quello che mi era stato detto di poco significativo per cui attenzione anche perché il nostro lavoro si risente un po' anche della di quello che fanno gli altri nel senso ah è da un po' che non vedo più nessuno fare questo esercizio per cui non significa più niente non vale più niente e invece magari voi sapete che alla vostra ha la sua bella dignità e se ci credete fatelo dobbiamo rendere la favola sta chiesa qua bigger stronger and faster a suo tempo questo era il le parole d'ordini di fare le trasmissioni che il buon Dan Peterson notate che Dan Peterson ha segnato almeno la mia vita il buon Dan Peterson quando faceva le sue telecroniche diceva quello lì si vede è andato all'università e dopo l'università è andato in una squadra e l'hanno messo sotto con le nautilus le nautilus erano le prime macchine proprio per la muscolarizzazione e quant'altro allora serve o non serve questa muscolarizzazione facciamo tirare su un po' di ferro o no anche questo argomento è un argomento un pochino dibattuto ma questo signore qua Jabir stiamo parlando della storia per cui eccolo qua diceva che appunto aumentando la sua età e non essendo più così atletico come un tempo aveva bisogno di una massa muscolare più importante per reggere anche quelli che erano le nuove generazioni particolarmente potenti dotati e quant'altro del signor del signor Jordan sapete che dicono anche visto le botte che aveva preso dai ragazzotti di Detroit ha detto vabbè vabbè allora già tiriamo su anche un po' di ferro ma quello che è una buona massa muscolare ok certo non riduce la capacità prestativa però a suo tempo a suo effetto dove metterla e quando metterla bisogna avere ben idea innanzitutto con chi abbiamo a che fare io ho avuto degli atletoni che avevano proprio il gusto di lavorare ok e non importava tanto se fosse un 5 se fosse un 2 cioè gli piaceva proprio lavorare con con i pesi ed essere anche diciamo così prestante ma e altri invece che è assolutamente anzi molti mi hanno proprio riportato la frase durante il college abbiamo ci hanno fatto esagerare adesso ci gestiamo molto di più ok il gestire secondo me è la parola giusta nel senso devo gestirmi devo gestirmi una carriera quindi quando vado a fare il periodo di muscolarizzazione e quali richiami faccio e quindi ecco che ha senso che il signor Lebron che direi il signore con la S maluscola l'ha già dotato di una struttura adeguata pure qui l'omino che infatti vedete come felice e sorridente può permettersi di ma l'altra cosa e con questo con questo chiudo l'altra cosa è questa qui va bene ma il preparatore in una in una squadra dove dove lo vado a piazzare cosa fa come è messo cioè tutta questa roba qua la gestisce da solo com'è la questione questa qua di solito è una diapositiva che io metto metto all'inizio della presentazione qua la metto a chiusura della della presentazione dicevamo del rapporto e della diversità tra allenare una un atleta ed allenare una una squadra sportiva ok neanche l'atleta anche se l'atleta fa tennis è è da solo anche l'atleta che fa tennis ha uno suo staff c'ha il suo medico c'ha il suo preparatore c'ha il suo osteopata c'ha il suo fisioterapista c'ha il suo mental coach c'ha lo psicologo sportivo a seconda di quello che quindi il lavoro è sicuramente un lavoro di squadra e il lavoro che deve fare il preparatore fisico è sicuramente un lavoro di squadra un lavoro di squadra dove chiaramente ognuno ognuno ha il suo nello sport c'è un un ordine piramidale che è così per la sua efficienza deve essere così deve essere mantenuto però è assolutamente bisogno di rapporti tra i vari i vari i vari membri che lo compongono poi ci sarà chi prende le decisioni come giusto che sia in ogni in ogni situazione in ogni cosa però è chiaro che il preparatore non può accedere a determinate informazioni nel senso può accedere media determinate informazioni ma che sono di compito dello staff medico così come lo staff medico deve relazionarsi col preparatore su determinate situazioni perché è lui quello che è sul campo è lui quello che ha l'idea dell'attività fisico specifica lo staff tecnico idem va bene allora io faccio questo tipo di di attacco o questo tipo di filosofia di gioco e va bene allora vediamo di organizzarci vediamo di il rapporto di estrema condivisione non soltanto degli obiettivi finali ma proprio di 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 condivisione di tutti questi dati che abbiamo detto prima di tutti questi dati deve essere proprio a livello globale di tutta la squadra più questi dati sono patrimonio comune ok e più c'è sicuramente un arricchimento ripeto nel rispetto delle specificità e quindi dell'incarico di ciascuno i giocatori chiaramente è il fulcro il punto focale di ogni cosa a me quando un giocatore mi ha detto ti dico quello che mi hanno sempre detto stai attento al preparatore fisico perché è il tuo peggior nemico non è che ci sono rimasto male mi ha detto proprio a te non hai capito proprio un cazzo allora cioè se se parti da quel punto di vista lì guarda allora proprio allora proprio non hai capito niente perché se c'è qualcuno proprio che potrebbe cercare anche di aiutarti la carriera e quant'altro ok uno sicuramente è il tuo preparatore fisico ci sono poi altre figure altrettanto importanti così ma e non dico che sia il più importante ma uno è sicuramente il tuo preparatore fisico detto ciò mi è capitato una volta su centinaia di giocatori forse qualcosa di più che ho incontrato ho incontrato nella vita morale della favola le nuove tendenze sono nulla di nuovo vi dico vi dico questa roba qui perché ho messo queste due foto una tanto perché ci sono legato io a queste tre persone questo qui si chiama Sam Pagano questo qui è stato introdotto nella Hall of Fame del football dello stato del Colorado insieme a un certo Peyton Manning per cui insomma non proprio questi qui sono i suoi due figli Chuck molti anni è il capo allenatore nell'NFL con i Colts 16 anni invece quello di fianco John che ha allenato con suo papà e con me anche qua in Italia 14 anni 16 anni va bene insomma nel defensive coordinator con i Chargers ok adesso allena i Texans mi sembra parlando con Sam una sera guarda coach ma perché senti e se noi questo gioco lo facciamo così così cos'ha mi ha detto beh bella idea sappi che decine di anni fa si faceva questo gioco ma lo si faceva così cos'ha ok per cui nulla di nuovo io pensavo avrei fatto chissà che roba chissà quale scoperta e invece nulla di nuovo ma il nuovo da cosa sta sta per quello che abbiamo visto nel l'interpretazione nell'approccio nuovo che bisogna avere il rapporto con il nostro ruolo e parlare di rapporto sicuramente il rapporto con i giocatori perché comunque tutto quello che viene fatto pensate soltanto alla questione di dover recuperare tutti i giorni il rapport dai vostri giocatori se vedete e se loro vedono che è una cosa importante allora vi seguono altrimenti diventa il lavoro più difficile più dispendioso più più inutile del mondo perché non c'è niente di peggio che raccogliere dei dati di dati di valori incerti per cui la cosa che sicuramente fa il preparatore atletico e questo è veramente nulla di nuovo il rapporto schietto umano franco coerente che ha con i suoi giocatori prima e con il membro e poi dopo dello staff per cui lavora dopo io vi ringrazio questo è dell'opportunità che mi avete dato di fare questa chiacchierata con quello che per me è ancora una una grossa passione per cui sono veramente contento dell'opportunità che che mi avete dato grazie a me grazie a te Massimo per la disponibilità e l'opportunità che hai dato a noi erano arrivate delle domande ma mentre poi parlavi me le hanno scritte in privato mentre parlavi poi mi hanno anche scritto no no ok ha risposto no no ok ha risposto c'era una domanda di Andre Andre ci sei dov'è sì sì ci sono ci sono hai risposto anche a questa domanda quindi me ne è venuta un'altra mentre spiegavi la mia idea con il nostro preparatore è stata quella di creare un questionario da proporre ai ragazzi a varie scadenze durante la stagione in modo tale da sapere come si sentissero stanchi post allenamento post partita così secondo te ha valore un questionario online che fanno una volta ogni due settimane una volta al mese o ha più valore una domanda chiedere come è andata come non è andata come ti senti appena finito l'allenamento ok per quello che è la mia esperienza se fai una cosa fai una cosa che sia che sia costante nel senso che sto recuperando dei dati ok fai dei dati in maniera precisa e costante recuperare dei dati una tantum può essere anche fuorbiante nel senso che hai fatto due settimane cariche ma la quarta settimana da lì a dopo hai già cambiato programma ti dà delle indicazioni che sono poi dopo difficilmente difficilmente gestibile è proprio la costanza della raccolta dei dati che peraltro è anche la difficoltà della raccolta dei dati questo lavoro io te lo dico onestamente nelle società dove peraltro li vedi una o due volte alla settimana fai anche fatica perché il carico poi dopo di lavoro che hai fuori o che i ragazzi fanno resta veramente difficile da gestire per cui potresti anche avere dei dati che ti dicono fino lì ha secondo me più senso quello di andare a chiedere è giocato la domenica il martedì com'è la situazione però lo chiedi lo chiedi in maniera in maniera costante sempre alto un'altra cosa non chiedo il giorno prima della partita o il giorno della partita in che condizioni in che condizioni trovi avevo fatto un incontro e poi ho seguito una chiacchierata con il preparatore fisico dell'Inter e in particolare lui seguiva la riatletizzazione degli infortunati e questo mi diceva che nel periodo in cui era lui all'Inter c'era Mourinho e Mourinho non gradiva che si facessero i test perché quando tu fai test il giocatore poi ti viene a dire ehi come è andato il test se il test va bene tutto bene lui sapeva di andare bene fa il suo test va bene va bene quando invece qualcosa comincia ad andare che ok non ci sono tre pallini rossi come usiamo noi a scuola ce n'è uno solo perché però ma secondo te ma allora non sto bene ma allora e se aumentassi i carichi oppure forse devo diminuire cioè si vanno a mettere degli ulteriori stressor nella testa dei 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 giocatori e lui diceva io non lo voglio uno stress del genere ma già altre cose sulle quali pensare cosa deve fare il giocatore che ha di fronte una roba e l'altra per cui non gradisco che vengano raccolti i dati lo vedo io se salta se corre se va se è presente se c'è se vuoi questa è una maniera molto questa qui va se vogliamo contro quello che abbiamo detto prima dell'evidenza scientifica cioè va bene allora lo facciamo come facevamo a sua volta tanto al tocco vediamo un po' ma sì ma giusto io cioè mi baso sull'esperienza però insomma di certo alcune cose devono possono essere immediate possono essere possono essere immediate va bene grazie prego c'era c'era poi Giacomo ciao Max ciao io volevo io volevo fare una domanda su abbastanza specifica insomma una curiosità che ho visto facendo partite ormai un po' di anni in giro per varie categorie mi è capitato ultimamente di vedere delle squadre che durante l'attivazione fanno la mobilità che passano la rapidità eccetera e appena prima proprio il minuto prima dell'inizio della partita fanno un velocissimo richiamo di rapidità di piedi reattività e visto che mi hai incuriosito l'ho notato in un po' di squadra dovevo sapere secondo te qual era il tuo punto di vista su questa cosa qua se aveva un'evidenza scientifica appunto se l'avevi trovata da qualche parte se è soltanto una tendenza nuova o se era una cosa invece che appunto era già stata provata già stata fatta qual è il tuo opinione diciamo qual è un'altra domanda però vabbè ok parto con questa sull'evidenza scientifica ad essere sincero non te lo so dire quello che ti so dire è che fare un'attività dove cerchi di arrivare appena prima della gara a esprimere un esercizio cercando di andare alla massima rapidità possibile mi ricorda un po' quello che fanno i velocisti che si danno i ceffoni prima di fare di fare la gara cioè è quella un po' di richiamare questa attenzione e quant'altro è così importante effettivamente utile faccio un altro ragionamento se non la faccio oppure se la faccio e non serve assolutamente a niente non dico che mi fa male perché fa male non penso che faccia male ma non mi serve assolutamente niente ok ci perdo così tanto a non farla? è uno spreco di energie così elevato? no in alcuni casi la convinzione di fare qualcosa di giusto ok mi può essere positivo torno all'aspetto che dicevo prima ti ripeto si possono fare degli analisi per andare a verificare da un punto di vista proprio rigorosamente scientifico se è utile ma alcune cose secondo me sono poco misurate o misurabili così come è questa situazione opposta ricordo che c'erano dei ragazzi che facevano tre balzi proprio rapidi modello stiffness durante il riscaldamento e poi accusavano fatica durante la partita e il loro calo di prestazioni era dovuto a questi tre rimbalzi cioè se ci sono delle cose che mentalmente aiutano o mentalmente disturbano a che ora è? sono dieci e mezza o paraculano ok visto che siamo in orario non più a quel punto le tolgo oppure le metto ok quindi non so dirti una risposta scientifica io ho anche fatto un pensiero appunto vai ad alzare i battiti magari che sai prima si fa il solito ruota con la palla che un po' diventa anche un po' lento eccetera invece facendo quella roba lì vai ad alzare i battiti per essere già pronto anche con il cuore diciamo che non devi passare i primi 30 secondi le prime due trazioni a dover spezzare io finisco sempre con un'attività particolarmente particolarmente rapida e quindi increscendo i famosi due minuti finale poi avrebbero proprio di per sé questo scopo avevo però anche scritto un articolo dove appunto che è poi stato anche pubblicato su cui si andava a discutere e vedere insomma va bene adesso facciamo tanto per riscaldamento poi tanto 5 giocano 7 sono seduti rientrano da qui al tempo del mai cosa è successo di tutto il loro riscaldamento si vedeva una perdita di prestazione mostruosa come se quasi il riscaldamento non l'avessero fatto e che ci voleva comunque del tempo per riattivarli qua anche lì ci sono alcune cose che mi destano dei dubbi nel senso che se fosse così comunque io pronti via prima di effettivamente fare la palla 2 mi passa ancora dell'ulterior tempo e allora se fosse soltanto un problema relativo ai battiti cardiaci non avrebbe senso perché in quei 30 secondi che impieghi per poi tornare a dai che giochiamo davvero la cosa non c'è al di là della questione emotiva per cui i battiti cardiaci ti si alzano già da sé durante l'attività lì è una questione invece più neuromuscolare che cardiaca e ti ripeto visto che si lavora sull'attenzione sulla reattività male non fa quindi tu dici una questione più di reclutamento quindi neuromotorio da quel punto di vista lo vedo così e invece visto che hai parlato di programmazione ti volevo chiedere in un'ottica più annuale come vedevi i richiami di preparazione perché ovviamente noi facciamo il grosso cioè io lavoro serie D per cui le minor diciamo ho il tempo all'inizio del campionato ovviamente per fare la preparazione settembre dove si fa il grosso poi abbiamo la pausa natalizia dove comunque la gente se ne va in vacanza eccetera e anche lì abbiamo pochi giorni una settimana non di più purtroppo per riprendere a gennaio e poi ci sono si spera se si fa i playoff non me ne voglia cocerice alla fine ad aprile eccetera e quindi volevo capire come vedevi le due riprese c'è la parte di novembre cioè di dicembre gennaio invece c'è la parte di aprile secondo te cosa si poteva andare a fare quanto era giusto andare anche a rubare tempo appunto la parte dell'allenamento vero e proprio che il coach deve provare gli schemi nuovi eccetera i ragazzi sono stanchi un pochettino la vedevi allora anche questo con con la serie uno per quello che riguarda l'aspetto condizionale è quello che io cercavo di non fare nel senso che se l'allenamento è strutturato organizzato già in maniera intelligente ok ed ecco perché l'analisi al limite dei carichi e l'importanza che l'allenatore prepari lui il suo RPE per controllare se effettivamente qualora vengono recuperati questi dati corrisponde a quello che è lo sforzo percepito dal giocatore questo può essere sistematico ma anche no in modo che l'allenatore anche di minors che quindi non ha proprio tutto il suo tempo anche lui di star dietro a tutte queste cose però questo tipo di rapporto di relazione è importante per sapere come appunto andare a mirare sul quindi quell'aspetto lì se ben gestito è fatto dall'allenatore stesso sul campo il preparatore in genere o meno io facevo in questa maniera cercavo di seguire altri aspetti più legati proprio all'esplosibilità più legati invece a un discorso di educazione preventiva nel senso ok visto che facciamo soltanto questo poco tempo e poco lavoro e poi dopo non ne avremo più eccetera eccetera ok guardate che cosa potete fare perché se ci mettiamo qui a fare è una parte di proprio eccettiva è una parte di riequilibrio muscolare è una parte di rilascio mio fasciale è una parte di e ciao allora abbiamo bisogno di fare professionisti stiamo qui tutta la mattina tutto il pomeriggio a metà della sera ok per cui io lo sfruttavo di più sull'aspetto neuromuscolare ok sul recupero e la corretta posizione ok per cui dare anche indicazioni su la postura pratica sul campo ok che ti dà quindi dei rimandi quindi dei compiti a casa da poter eseguire perché se ti metti lì a fare anche la parte condizionale anche a te la parte condizionale per sua natura richiede tot tempo e tempo è l'unica cosa che sicuramente non hai ottimo grazie mille abbiamo una domanda anche da Davide ciao ciao Max ciao senti una domanda per quanto riguarda il riscaldamento iniziale noi di solito facciamo il riscaldamento diciamo dinamico Davide c'hai anche la telecamera dai fatti vedere perché se no io non vedo né più i miei ragazzi non vedo vedo più nessuno o almeno qui in epoca covid almeno dalle figurine dimmi scusami dimmi ti volevo dirti il riscaldamento che noi facciamo è dinamico con la scuola con i senior vogliamo provare quest'anno di fare un riscaldamento personalizzato cioè vedere i ragazzi che hanno previne ginocchia ragazzi che hanno previne caviglie previne schiena far rifare 10 minuti di riscaldamento personalizzato poi fare una parte globale insieme e poi andare con la parte di basket secondo te questa cosa può avere senso oppure comunque conviene sempre fare un riscaldamento tutta la squadra direttamente senza fare cose specifiche per ogni ragazzo allora allora ti dico un po' quella che è quella che è la mia esperienza secondo me dipende molto da come hai lasciami passare il termine scolarizzato i tuoi i tuoi ragazzi cioè che grado di educazione di educazione hanno di educazione nel senso quanto ne sanno nel fare degli esercizi da solo da soli e che voglia ne hanno di fare degli esercizi da soli io quando ero all'Armani facevamo prima hanno tutta la parte dove ognuno fa i fatti suoi e quant'altro si va dentro si chiacchiera coach dice ricorda quelle che sono le strategie della partita si viene fuori alle coreografie coreografia onestamente mi sta un po' lì il fatto che facciamo coreografia di squadra e te ti metti a fare una roba tua allora se fai una roba di squadra la fai di squadra se dici guarda che a me fare il lavoro di squadra non va ne parliamo con l'allenatore decidiamo insieme e abbiamo bello che è finito fai parte di una squadra fai quello di squadra poi però io lasciavo sempre una parte ai giocatori dove dopo aver fatto tutto un lavoro di squadra ognuno potesse curare quelle che erano anche le loro esigenze tieni presente che le loro esigenze avevano tutto il tempo prima per farlo ok quindi era adesso però che ci stiamo avvicinando comunque alla gara e so che tu hai sta mania qui di dover per fare delle cose o l'esigenza vera e comprovata di fare determinate cose è giusto che tu abbia il tuo tempo per gestirti le tue cose capito quindi con alcuni ma stiamo parlando di professionisti cioè di professionisti veri c'era questo questo rapporto eccetera in situazioni di livello diciamo un po' più basso in alcuni casi alcuni tentativi così sono naufragati nel senso che ok ragazzi curate le vostre cose e curate le vostre cose era oh allora cos'hai fatto ieri sera chi è quella ti ha dato un numero non te l'ha dato capisci che lì così naufrega ogni tentativo di fare una cosa seria di fare una cosa di 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 un certo di un certo livello capito ok grazie prego allora io dalla chat non ho non ho altre domande quindi io ho una domanda al volo scusami se sei pregiato se avete domande aprite voi il microfono e andate tu quindi consigli di farlo prima o dopo non ho capito la parte insieme questo lavoro individuale in partita no 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 il programma è perché io l'ho pensato prima ben trovato e ben adattato è spiegare quelli che sono ormai il il modo il modo di 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 tutti cioè tu vieni a qualsiasi livello tu presenti al alla partita entri in 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 palestra e a secondo se c'è spazio se no se gioca qualcuno prima se gioca ti trovi il tuo angolino se hai delle cose da fare visto che stai curando la tua forma fisica ti metti lì e ti fai le tue cose io so che devo riscaldare bene che ne so questo braccio perché ho questa difficoltà mi metto lì e mi faccio i miei quattro esercizi dopodiché se hai bisogno di dieci minuti verrai dieci minuti prima se hai bisogno di un quarto d'ora un quarto d'ora prima se non hai bisogno vieni quando vuoi dopodiché si fa il lavoro con la squadra con l'allenatore con così poi se lavoro di squadra lavoro di squadra in genere ripeto lascio del tempo perché ciascuno poi abbia ancora il suo attimo ok dove ritrovare alcune cose alcuni movimenti alcune posizioni fare anche alcune cose mancinelli che si stracciava sempre il polpaccio aggrappato al canestro eccetera mancinelli lo vuoi fare sto coso fallo cosa ti devo dire te l'ho detto una volta te l'ho detto due te l'ho detto tre no ma se non ok se tu stai bene così fallo anzi te lo ricordo io di farlo perché ci tengo che tu quando entri in campo entri in campo sicuro e sereno ok ho capito il paese è l'evidenza scientifica però dopo questa parte c'era ancora la parte finale di ruota per cui si ritornava a un discorso comunque di team e di squadra e dopo di che via che giochiamo ottimo perfetto no era un check se stavo facendo cazzate tanto l'orario abbiamo detto che sia oramai oramai anzi a proposito di andare a recuperare ma non te lo diciamo adesso la conferma provate se voglio appunti bene io vi ringrazio ancora siete stati veramente gentilissimi vi ringrazio veramente tanto ringrazio te Stefano ringrazio la Monica ringrazio che mi aveva chiesto questa cosa ringrazio tutti voi proprio della pazienza che avete avuto e dimostrato nel sentire le mie parole